Gesù afferma che il regno di Dio soffre violenza e solo i violenti se ne impadroniscono. Occorre sforzarsi per entrarvi. Devo salvarmi a qualunque costo. Debo tornare alla casa del Padre per non andare perduto. Vergine Maria salvaci. È il grido che vogliamo lanciare in questo mese di maggio e in ogni giorno della nostra vita. Fioretto. Oggi pregherò intensamente San Giuseppe, il custode del Redentore e sposo della Beata Vergine Maria perché mi ottenga il dono di una buona e santa morte. Giaculatoria Vergine Maria a porta del Paradiso prega Gesù per noi.